Una vecchia favola finlandese parla di un mago che riesce a trasformare il piombo in oro. Nel caso del Soberato erano già ragazze di altissima qualità, ma Mago Chiappini ci sta mettendo qualcosa di suo. Ma non lo so onestamente. Oggi sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze. Sono veramente molto soddisfatto perché hanno interpretato la partita con lo spirito giusto e con la giusta attenzione agonistica, quindi brave. Nel calcio si direbbe, ma perché giocate alla morte? Tanto non avete più niente da chiedere alla classifica. Nella volley non è così. Beh, no, direi proprio di no. Noi abbiamo il dovere morale di onorare prima di tutto l'avversario. La prima regola dello sport, quello del rispetto dell'avversario. Il rispetto dell'avversario prevede che tu metti in campo tutto quello che hai, come noi abbiamo fatto stasera. E oggi si sono divertiti tutti. Erano in 15.000 a Catanzaro per festeggiare la squadra del calcio, ma chi è venuto qui si è divertito? Beh, secondo me giustamente hanno festeggiato il Catanzaro. Qui si sono persi un bello spettacolo. E dove arriveranno le prossime partite? Cosa farà il Soberato? Eh, questa è una bella domanda. Stasera ci beviamo una birra, poi da domani cominciamo a pensare a Trento. Più volte il coach Chiappini mi ha detto che dopo una vittoria bevo una birra. Ma non è che faranno male tutte queste birre? No, no, lo bevo soltanto la domenica sera, va bene. Grazie coach e complimenti. Grazie mille a tutti. Grazie. Vole il Soberato, Valsabina, Millennium, Brescia, 3 a 2, con i parziali 23 a 25, 25 a 23, 25 a 13, 21 a 25, 15 a 8. Noi abbiamo coach Beltrami che ringraziamo perché a fine partita c'è sempre tanta adrenalina. Gli facciamo i complimenti perché è il nuovo coach della nazionale italiana B, Signores, e gli chiediamo cosa è mancato a Brescia e cosa ha avuto in più Soberato. Beh, innanzitutto complimenti a Soberato perché sono state molto lucide e tranquille nella gestione della gara. Ci hanno creduto, nel secondo set eravamo avanti, eravamo 1-0, eravamo avanti nel secondo, ci hanno aspettato, noi abbiamo iniziato a fare qualche errore di troppo. E noi non siamo lucidi, devo ammettere. È facile giocare con Roma, come è stato la settimana scorsa, dove tanto non c'è niente da perdere, oggi c'è da perdere e non siamo lucidi. Noi interpretiamo la partita, purtroppo subiamo in maniera grave la partita, è più un problema di attenzione, di atteggiamento, ma non di atteggiamento. La mia squadra non ha un brutto atteggiamento, se no non saremo dove siamo, ovviamente. Però il non accettare che alcune volte le cose possono essere complicate e bisogna rimboccare le maniche, accettare alcune situazioni e poi spingere. Però è stata una bella partita, avevate anche gli Ultras al seguito, un plauso a questi tifosi? Sì, abbiamo dei tifosi fantastici, pochi ma buoni oggi, però sì, ci seguono dappertutto, sono venuti a Orbi, erano sporsi in Sicilia quest'anno qua, quindi molto bene. E noi abbiamo visto tutte le partite in casa del Soverato e facciamo i complimenti a Brescia, perché oltre ai nomi ha anche la sostanza. Grazie, grazie davvero, sì, sapevamo che qua era difficile e vabbè, abbiamo fatto un punto, nel senso qualcosa lo portiamo a casa, siamo contenti. Coach, guardando la telecamera, i vostri tifosi, promettete qualcosa di importante nei play-off? Ma iniziamo a qualificarci ai play-off e poi sicuramente dovremo vendere il calo alla pelle, più di stasera dovrebbero essere più bravi, dovrebbero essere più cinici. E grazie anche per il fair play, sia suo che di coach Chiappini. Avete chiacchierato a lungo in inizio partita, cosa vi siete detti? Ma niente, considerazioni su come si gioca a pallavolo, sulla stagione come è andata, ci conosciamo da tanti anni, quindi sì, mi sembra giusto, qua è un bel ambiente, è caloroso il pubblico, però è sempre stato molto rispettoso tutte le volte che sono venuto, quindi è molto bello. Siete una bella immagine del volley, grazie. Grazie a voi, grazie mille, grazie. Un grande volley soverato, però c'è stata Ilenia Cecchi che nei momenti importanti era lì, al centro, a tre punto per terra. Complimenti a tutte. Grazie, oggi è andata bene contro una squadra che la partita scorsa ha vinto contro Roma, poi in casa noi facciamo del nostro meglio, infatti è peccato per il quarto set, però è importante, due punticini, ci siamo divertiti, ci siamo tolti qualche soddisfazione. Una squadra che ha bisogno dell'esperienza, della grinta e delle capacità tattiche e tecniche di Ilenia Cecchi. No, no, si vince di gruppo, quindi è stata una vittoria di squadra, senza togliere niente a nessuno. Però la leggerezza psicologica forse può dire qualcosa. Sì, sì, adesso queste partite che sono rimaste, visto la classifica, le giochiamo col divertimento, insomma è quello che viene tutto di guadagnato. E avete fatto divertire gli ultras. Sì, infatti sì, finalmente. Continuano a cantare, un giorno all'improvviso mi innamorai di voi. Eh sì, speriamo che li facciamo innamorare anche per la prossima partita in casa. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, crepi, grazie. E per la serie, grandi giocatrici che hanno lasciato il segno a Soverato e alle quali vogliamo tutti bene, Jennifer Boldini, complimenti, grande smistamento di palla. Forse oggi Soverato ci ha messo un po' più di cuore. Sì, sì, devo dire che io conosco bene questo campo, so com'è giocare qua ed è sempre molto difficile. La squadra di Soverato sicuramente ci ha messo il 200%. Noi non siamo riusciti ad essere costanti, non siamo riusciti ad adattarci al loro gioco e a giocare contro di loro. Noi abbiamo un gioco molto diverso e non siamo riusciti a esprimere al meglio oggi. Avremmo dovuto accettarlo e andare avanti comunque, abbiamo fatto un po' più fatica. Bravi loro, comunque complimenti. Ci sono state delle magie di Jennifer che hanno ricordato i tempi di Soverato. È sempre in crescita. Grazie, grazie davvero. So che un pezzo del mio cuore è ancora qua perché io sono grata a Soverato per quello che ha fatto per me quell'anno. È stato un trampolino di lancio, diciamo, quindi veramente io porto tutto nel cuore. E allora, ultime due domande. Dove arriverà Brescia e cos'era quel piccolo cartoccio di dolci che aveva Jennifer con sé all'ingresso? Appunto perché ho lasciato qua un pezzo di cuore, ho degli amici che mi hanno dato appunto quei dolci. È bello, è bello tornare comunque qua nonostante la sconfitta e trovare tutto questo calore intorno a me. Dove arriverà Brescia non si dice perché siamo scaramantici, la speranza è quella, diciamo così. Poi ci lo giochiamo ogni partita come abbiamo fatto anche oggi, lottando su ogni pallone. A volte va bene come si stavano la scorsa, a volte no, come questa. Però noi ce la mettiamo tutta. E allora un grazie e un abbraccio a Brescia e a Jennifer Boldini. Grazie, un abbraccio a voi e un bocca al lupo per tutto.